Do subito la parola al nostro magnifico rettore che ci fa l'onore di intervenire in questo primo seminario interdisciplinare per la pace, i diritti umani e i diritti dei popoli. Abbiamo con noi il chiarissimo professor, magnifico rettore dell'Università di Udine, Roberto Pinton, che è uscito un attimo dall'evento nazionale della rete dell'Università per la Pace in ambito CRUI e avvia il nostro seminario. Grazie infinite rettore. Scusate, ho ancora qualche difficoltà a passare da un team all'altro, con le persone giuste. Allora no, ho semplicemente partecipato, anche se è partito con un po' di ritardo, devo dire, l'evento di lancio nazionale, che vi devo dire è stato, probabilmente qualcuno di voi avrà avuto modo di seguire, non solo interessante, ma è quasi anche commovente per capire come in realtà da un'idea molto, anche se si può pensare generale, sia nata di fatto una rete alla fine universitaria, addirittura nascerà e sarà inaugurato un corso di laurea specialistiche. Si parla all'Università di Pisa, che sarà interateneo, si parla addirittura di scienza della pace, che poi è una disciplinare, come è stato sottolineato da voi più volte. Quindi per me, per noi, insomma, è chiaro che è un argomento molto importante, visto che stiamo proprio a Udine lavorando sempre più su tematiche che sono interdisciplinare. Io ricordo, fra l'altro, guardando un pochino nella nostra storia, che già nel 2007 fu istituito un centro interdipartimentale di ricerca sulla pace, che si chiamava Irene, ricorderà bene Antonella Riem, credo, poi va bene, per varie vicende legate alla difficoltà di mantenere i centri interdipartimentali e quant'altro, però evidentemente poi questa idea non si è spenta e anzi queste attività, queste volontà di creare confronto interdisciplinare su una materia così come la pace, credo che sia fondamentale. Ma non solo, ma poi anche perché vengono rilanciate dalla situazione attuale. Io ricordo benissimo anche con la sostenibilità fu lo stesso. Ne parlarono Papi, da Paolo VI, leader di partito, come per lingua resa, poi si spense e adesso è ritornato su. Io credo che in questo momento storico, per esempio, avere la sostenibilità, le pari opportunità, l'inclusività, la pace, che tutti convergono verso quelli che poi sono gli obiettivi ONU, ricordo che uno dei 17 obiettivi, il 16 è proprio quello della pace, credo che sia davvero fondamentale e ineludibile per noi che facciamo scienza, che facciamo formazione e che facciamo ricerca. Ricordo che oggi è la giornata internazionale dei diritti umani, tra questi si dovrebbe essere, c'è sicuramente il diritto all'istruzione, alla formazione. Ricordo che a Udine, un paio di anni fa, tre anni fa, ci fu il G7 University, dedicato proprio a University for All, tutte le università anche lì riunite, quindi Rete per la Pace, Rete per la Sostenibilità, dell'Università Sostenibile di cui facciamo parte, la pari opportunità e l'inclusione con i centri, comitato unico di garanzia. Ecco, questo è importante, non c'è solo formazione, perché circa 70 anni fa ci fu anche una dichiarazione, sempre dell'ONU, sul diritto alla scienza e i suoi benefici, quindi c'è poco da fare. L'università, le università devono farsi carico anche di questo, ma sta nelle loro missione, anche nei loro modi ormai di operare. Io ricordo che a Udine tutto questo è piuttosto attivo, se penso alla Uniud Sostenibile, a tutte le attività anche sulle pari opportunità e l'inclusività. Recentemente abbiamo inaugurato un paio di corsi trasversali, uno addirittura ha avuto mille partecipanti, fra studenti e dottorandi, quindi l'interesse c'è, ma la volontà di acquisire sempre più informazioni e notizie e condividerle in questo. Ricordo per esempio che per la sostenibilità c'è una commissione del Consiglio degli studenti, quindi l'università non è fatta solo da docenti e personale amministrativo, ma deve avere un grande coinvolgimento degli studenti. Ricordo che a Udine abbiamo una cattedra UNESCO sulla resilienza, le attività post-emergenziali, che ha contribuito a definire un documento che è utilizzato per la salvaguardia degli edifici scolastici nelle zone del mondo, ormai è stato adottato a livello mondiale, dove succedono calamità naturali. Quindi io credo che tutto questo dia valore a quello che facciamo nell'interdisciplinarietà e quindi anche nel momento di oggi come un ulteriore catalizzatore verso problemi comuni che vengono trattati magari da parti e con modalità diverse, ma che hanno obiettivi sempre gli stessi. E da questo punto di vista credo che l'università non possa fare a meno, ma entri proprio nelle sue corvo. Io ricordo e poi concludo che quando ci fu l'evento dell'11 settembre, il crollo delle torri gemelle, io ero a un congresso scientifico in cui c'erano persone di nazionalità diverse, di religioni diverse, di colori diversi e ci fu una solidarietà totale e comune, incredibile fra tutti noi. Quindi questo credo che sia significativo di quanto l'università, la ricerca, la formazione, nel caso nostro anche sotto il cappello della Costituzione, sia fondamentale. E da ultimo ricordo che ovviamente noi come posizione geografica abbiamo il dialogo con le minoranze linguistiche e nazionali, ma ciò non di meno non rinunciamo ad avere una visione sovranazionale. E io fra i relatori di oggi vedo un cospicuo, come dire, nutrito numero di relatrici autorevoli, e quindi questo non mi fa altro che piacere, bravo Guglielmo. Quindi io così era veramente un saluto emozionale, più che istituzionale, ma per attività in cui credo e crediamo fermamente, so di essere portavoce di tutti i colleghi, non so il facente funzione temporanea. Quindi buon lavoro e grazie a tutti per partecipare. Un grande saluto anche a Fosso Barbarisi per aver accettato il nostro invito, oltre ai relatori esterni che si uniranno e renderanno poi effettivamente di valore l'evento. Grazie infinite al magnifico rettore che ha evidenziato Università, Nazioni Unite, Costituzione, l'interdisciplinarietà, i dipartimenti, e anche non ultimo il tema delle donne, perché le donne spesso sono molto più capaci di noi uomini per la pace realmente. E allora adesso diamo la parola al professore Alfonso Barbarisi, nostro ospite di livello nazionale, perché è il rappresentante dell'Associazione Italiana Docenti Universitari. Però prima vorrei un secondo dare la parola a livello locale invece, con il nostro Nicola Strizzolo, che spiegherà un po' il perché abbiamo coinvolto l'Associazione Italiana Docenti Universitari. Grazie infinite ancora, magnifico rettore. Grazie Guglielmo, non voglio rubare ovviamente minuti preziosi e soprattutto anche, diciamo, di contenuto, essendo Alfonso proprio il nostro presidente centrale. Il perché è molto semplice, noi veniamo da un lungo percorso che vede insieme docenti universitari di qualsiasi, di qualsiasi disciplina, uniti da delle fondamenta culturali, che sono quelle cristiane. Cristiane nel senso proprio dell'inclusività, quindi non dell'esclusività di chi è di uno o un'altra religione, ma proprio del dialogo. Dialogo, tra l'altro, avviato e rinnovato attualmente anche da Papa Francesco e infatti proporremo a breve anche questa comunicazione al nostro rettore e stiamo portando avanti proprio un'opera fatta anche assieme a Papa Francesco proprio sull'interculturalità, sull'accoglienza e sull'immigrazione, di cui ovviamente avrà più titolo a parlarne in dettaglio anche Alfonso. E ha delle profonde radici di cristianità, ha al suo eterno persone, pensate una cosa, chi è stata premiata due o tre anni fa, se non sbaglio, la cosiddetta mamma Erasmus. La persona che ha fondato l'Erasmus è un membro AIDO, a tutti gli effetti, partecipa alle riunioni, abbiamo importanti ex segretario, sottosegretario del Ministero dell'Istruzione e stiamo tuttora, grazie anche al rinnovato impulso, ma anche grazie a Roberto Cipriani che l'ha preceduto, che mi ha coinvogliato e fatto così incontrare anche Alfonso, noi stiamo cercando di rendere partecipe attraverso un dialogo con qualsiasi cultura che voglia rappresentare la vocazione a essere docenti universitari con tutto quello che compete di quello del concetto, magari ci tornerò successivamente, sulla generatività. Essere generativi è proprio il volume, un po' anche guida di Magatti e Giaccardi, in cui io invito, perché il concetto di pace non è un concetto fine se stesso, direttorica e di protagonismo di chi fa la pace, ma qualcosa che perdura, che si ripete con meccanismi di viralità, di cui ritornerò nel mio intervento, ma adesso ho già rubato minuti importanti e preziosi al nostro Presidente. Alfonso, lascio a te la parola. Grazie, io ringrazio il benvenuto del Rettore, mi sento un po' udinese, perché io ho frequentato il ginnasio-liceo Stellini di Udine qualche tempo fa, quindi è un piacere ritornare nelle terre friulane, anche se telematicamente. Io porto ovviamente il saluto dell'Associazione Italiana Docenti Universitari di Area Cattolica, ma leggendo l'articolazione di questo evento mi sono domandato il significato e il valore di una rete dell'Università per la pace. Credo che ci sia effettivamente la necessità di una riflessione per esorcizzare e superare la non società in cui stiamo cadendo e che è l'antitesi di una società avvolta alla pace. La non società conserva pallidi simulacri di un noi condiviso, la mancanza di fiducia è la sua essenza e l'amplificazione della non società passa anche per un uso deviato dei moderni social. I poteri politici ed economici autoreferenziali hanno preferito alla vecchia censura il bombardamento che imprigiona e impedisce di apprezzare la residua informazione critica e il libero esercizio del dubbio e della critica personale. E' il trionfo dell'homo economicus di mille, ma noi umani abbiamo bisogno di fiducia, di solidarietà cooperativa, di reciprocità, dare, ricevere, ricambiare, di dialogo, su cui si basa una vera equamine, giusta pace e duratura. L'analisi della storia del ciclo vitale dell'uomo sapiens fa vedere come la cooperazione tra membri, le strategie di reciprocità, hanno permesso nella competizione vitale tra le razze che l'uomo sapiens abbia potuto sul classare l'uomo di Neatertao. Applediamo così all'uomo homini natura micus di Antonio Genovese e dal concetto di felicità civica dell'uminismo napoletano. E bandiamo la non società moderna e post-moderna e la sua ricerca compulsiva della ricchezza, il rietaggio della conflittualità non innate nell'uomo. E qui bisogna partire da un patto tra governanti e governati, dove potere, politico e autorevolezza si ottengono in campo di generosità e capacità di costruire benessere per l'intera società e generare pace. Vi do il mio buon lavoro, ma seguirò anche con piacere i vostri lavori, perché costruire la pace è una costruzione continua, anche sofferta, ma che deve essere convinta nel nostro intimo. Grazie a tutti. Grazie al professor Barbarisi. Adesso chiedo a... Abbiamo parlato prima dell'intervento delle donne nella pace, l'ha richiamato il Rettore, e chiedo a due persone. Una, la vedo già, che è la dottoressa Antonella Uliana, che è assessore alla cultura del Comune di Vittorio Veneto, ma c'è anche, prima vorrei dare la parola all'onorevole avvocato Alessandra Basso, del Parlamento Europeo, un membro del Parlamento Europeo, membro di una commissione del Parlamento Europeo che è dedicata all'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è un tema collegato anche al mio sfondo, cioè allo sfondo relativo al Master in Intelligence e Information Technology, che noi abbiamo messo sotto legida della Costituzione, sotto legida dell'input del Ministero degli Interni e delle visioni dell'intelligence democratica, e quindi sono tutti valori ai quali teniamo moltissimo, però mentre ho il riscontro che ci sente l'avvocato e l'onorevole Alessandra Basso, io però non la vedo per poterla mettere in evidenza, le chiedo di accendere il microfono e di iniziare a parlare in modo che possa risalire la classifica delle nostre... Sono qui, sono qui. Eccoci, perfetto. Sì, adesso ti metto in evidenza e puoi parlare. Grazie infinite. Parlamentare europeo Alessandra Basso, membro della Commissione, Aida. Ci spiegherai anche cos'è questa commissione. Grazie infinite. Questa nuova commissione, sì. Allora, buongiorno a tutti. Sono collegata da Bruxelles, quindi forse non so se c'è qualche problema, ma spero che riusciate a sentirmi e a vedermi. Dovresti dare una luce, una luce se riesci, che ti illumina un po' più il volto, ma... Posso? Un secondo, vado ad accendermi. Grazie, finite. Vediamo Bruxelles, siamo in collegamento con Bruxelles e poi avremo anche un altro intervento internazionale. È una giornata un po' grigia, ma vabbè, insomma. Adesso si vede meglio? Sì, perfetto. Ok, allora, prima di tutto, grazie infinite per questo invito ad intervenire, e questo convegno, come è stato detto, come parlamentare europeo, sono membro di... Una è la INCO, il mercato interno della tutela del consumatore, e è membro di questa commissione AIDA, che non è un'opera lirica, diciamo, ma è la commissione che è stata creata pochi mesi fa, a settembre, proprio per lo studio dell'intelligenza artificiale nell'era digitale, che è uno dei due grossi temi di questa legislatura. Appunto, uno è, come sapete, il Green Deal, e l'altro, invece, è proprio l'intelligenza artificiale. È una commissione parlamentare speciale, che ha la durata, per ora, insomma, di un anno, che è stata, appunto, creata ad hoc, proprio per studiare queste evoluzioni dell'intelligenza artificiale, delle tecnologie nei vari settori, che vanno, sapete, dalla sicurezza, dalla salute al lavoro, l'economia e mercati, o la gestione dell'ambiente, per ritornare al Green Deal. È un, diciamo, è un tema che interessa tutta la nostra esistenza, da qui a tutta l'evoluzione che ci sarà, nei prossimi anni. Quindi, diciamo, come Parlamento, abbiamo sentito questa esigenza di creare questa commissione speciale, proprio per incrementare la conoscenza in questa materia. E, normalmente, diciamo, facciamo molte audizioni di varie persone, quindi scienziati, filosofi, giuristi, e anche uomini di governo, proprio per riuscire a valutare, comunque, limiti giuridici, da una parte, ma etici, soprattutto, nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale in questi diversi settori. Intelligenza artificiale, che, lo sappiamo, insomma, è un po' di anni che si sta evolvendo, però ha sempre avuto un duplice aspetto. Uno è uno strumento di pace per migliorare, comunque, la vita umana in tanti settori, ma può essere anche un fattore di avanzamento nel settore bellico. La tecnologia, diciamo, normalmente, per sua natura, è neutra, però sta nell'uomo definirle, ovviamente, come usarla, se come strumento di guerra o come strumento di pace. E, purtroppo, anche l'intelligenza artificiale non è sfuggita a questa evoluzione dal punto di vista, diciamo, bellico, perché i droni, gli aerei senza pilota, i veicoli terrestri a guida autonoma sono ormai, diciamo, termini che ormai noi conosciamo e sono diventati comuni nelle cronache che giungono da aree instabili o di guerra. La Russia ha utilizzato un veicolo a guida autonoma nel settore siriano per attività di controllo di frontiera o di contrasto al terrorismo e anche gli Stati Uniti hanno utilizzato dei robot da combattimento nelle esercitazioni insieme alle normali truppe. Ecco, anche la Turchia ha utilizzato dei droni nella guerra che si è recentemente conclusa. Quindi, diciamo che da questo punto di vista queste che vi ho nominato sono comunque applicazioni dell'intelligenza artificiale abbastanza semplici anche se ovviamente fanno parte di un'intelligenza artificiale ad alto rischio e sono comunque al servizio al servizio di un decisore umano cioè c'è sempre una persona che comunque controlla. ovviamente anche qui parlando per esempio di guida autonoma ecco la guida autonoma la possiamo utilizzare sia per dirigere mezzi di emergenza in caso di non so disastri sanitari o per in ambito sanitario come è successo ultimamente che Leonardo ha utilizzato un drone per il trasporto di medicinali urgenti in questo periodo di covid oppure sempre come guida autonoma per quanto riguarda persone con disabilità o difficoltà di movimento è ovvio che questo lo può li può aiutare ecco nel discorso soprattutto in tema di pace e guerra però è sempre rilevante quello che fa la differenza è il problema etico quindi la guida autonoma come il volo autonomo sono dei livelli di intelligenza artificiale relativamente bassi diciamo non particolarmente complessi ma che sono a servizio comunque di una persona umana e questo è il fattore essenziale quando parlavo di etica per me l'etica non può permettere che decisioni riguardanti strumentazioni belliche che possono andare ovviamente contro dei bersagli umani sono decisioni che non possono essere lasciate solamente alla macchina è la responsabilità della decisione perfino l'ONU ha preso una posizione netta contro la possibilità che esistano armi intelligenti in grado di decidere assolutamente in modo autonomo ecco poi esiste una corsa strategica mondiale collegata all'intelligenza artificiale e alla realizzazione di super computer ne è stato realizzato anche uno a Bologna in Cineca quindi sono computer sempre più potenti quindi in grado di applicare reti di una complicità crescente e magari la prospettiva è quella di riuscire ad avere dei computer che realizzino il sogno futuristico di Asimus con la psicostoria cioè la capacità di prevedere anche l'evoluzione futura e dei dati storici ecco per concludere brevemente questo mio saluto io ritengo che un vero sforzo per la pace attraverso l'intelligenza artificiale debba passare attraverso due elementi essenziali una che è la definizione per quanto possibile di standard internazionali molto stringenti che viettino come ho detto prima l'utilizzo di sistemi di armi completamente autonome e poi bisogna fare in modo secondo me per quanto possibile che questa corsa anche verso i super computer non diventi una rivalità strategica ma sia una sana competizione di team ecco che comunicano tra loro per sviluppare appunto questi super computer estremamente complessi perché quando le conoscenze sono diffuse e condivise creano diciamo un ambiente migliore e quindi per rifarmi una citazione di un poeta la pace viene dalla comunicazione ecco io concludo questo breve mio intervento di saluto seguirò poi anche la continuazione di questo di questo convegno ringrazio e saluto tutti grazie grazie infinite onorevole Alessandra Basso avete percepito la competenza e soprattutto la vicinanza ai cittadini di questa istituzione il Parlamento europeo adesso do la parola all'assessore alla cultura del comune di Vittorio Veneto Antonella Ulietto saranno altri interventi di altri assessori dei comuni di Pordenone e di Udine ma sono felice di dare la parola proprio ad Antonella Uliana perché con il comune di Vittorio Veneto e con il suo assessorato noi come storia abbiamo svolto delle attività nell'ambito del museo della battaglia di Vittorio Veneto che è un museo comunque che potremmo richiamare per la pace perché ci fa vedere anche quanto brutta è la guerra e c'è la documenta e ci apre tante vie di riflessione grazie Antonella ti invito ad accendere il microfono e a parlare grazie infinite grazie mi sentite sì bene allora intanto grazie mille Guglielmo per l'invito a partecipare a questo seminario portare i saluti dalla nostra città da Vittorio Veneto stiamo parlando di guerra stiamo parlando di pace e Vittorio Veneto lo sappiamo tutti è legata al nome della grande guerra Vittorio Veneto è stata il teatro protagonista della fase conclusiva della grande guerra e quindi da qui questa città che è legata al nome della grande guerra vuole proporsi come città per la pace dicevi giustamente tu il nostro museo della battaglia è una vittoria che viene ricordata anche all'interno del nostro museo che sicuramente fu una vittoria militare ma è stata anche certamente la vittoria di un popolo e infatti all'interno del nostro museo della battaglia c'è il racconto ci sono i cimeli di uomini e di donne di individui che nella loro vita individuale e corale hanno cambiato possiamo dirlo il destino di una di una nazione il museo il nostro museo della battaglia racconta tutto questo e proprio perché racconta tutto questo si propone anche come museo della pace e proprio per questo motivo perché noi abbiamo voluto soprattutto in questi ultimi anni valorizzarlo e lanciarlo proprio come museo della guerra per la pace abbiamo realizzato alcune iniziative in questi anni che ci inquadrano all'interno di quella rete nazionale internazionale di musei che proprio perché contengono l'orrore della guerra vogliono dimostrarsi capaci di aprire lo spiraglio verso un mondo di pace e proprio in questa ottica abbiamo valorizzato il museo creando in collaborazione con lo stato maggiore dell'esercito italiano un premio un premio che ha proprio questo questo nome la vittoria è la pace e con questo premio che è un premio annuale noi valorizziamo gli atti di valore morale o professionale dimostrati appunto nell'ambito dell'esercito durante le missioni di pace soprattutto appunto in territori all'estero dove ancora questa non c'è altri due progetti importanti hanno visto il nostro museo in linea dei musei della pace uno è il progetto Faces in the book e con questo progetto abbiamo voluto raccogliere all'interno del nostro museo i volti e quindi il ricordo di quei combattenti del famoso 332esimo reggimento americano che venne spostato dal fronte francese a quello italiano e abbiamo raccolto i loro volti per creare la memoria di quegli uomini e per sottolineare nella nostra città come città della pace il legame con gli stati uniti d'america le relazioni di pace con questo questo paese e quindi tutti coloro che residenti negli stati uniti hanno voglia e interesse di collegarsi con il nostro museo possono tornare trovare qui le immagini dei loro antenati e mantenere quindi viva la memoria ma c'è un altro progetto molto interessante sempre in quest'ottica che abbiamo realizzato che è quello del memoriale dei cavalieri di Vittorio Veneto la città è diventata appunto di riferimento per tutta l'Italia ma anche per l'estero riguardo a questo tema dei cavalieri e anche questo memoriale dei cavalieri che è stato inserito in una chiesetta sconsacrata collegata alla struttura architettonica del museo è la giusta conclusione dell'idea del museo che attraverso appunto un percorso che ci fa vedere l'orrore della guerra l'orrore delle trincee ci porta a ricordare quegli uomini che quelle atrocità hanno vissuto hanno superato ponendo le basi per quello che è il senso di una necessità che tutti abbiamo che è quella appunto della pace e attraverso questo memoriale dei cavalieri siamo diventati appunto un punto di riferimento dicevo sia per l'Italia ma anche per il mondo infatti abbiamo portato i libri contenenti i nomi e l'elenchi nominativi dei cavalieri di Vittorio Veneto per esempio in Australia con l'Australia abbiamo iniziato questa collaborazione in particolare con il museo dell'immigrazione di Melbourne perché abbiamo voluto proprio collegare il nostro museo a una realtà quella australiana dove andarono ad inserirsi quei soldati durante il periodo appunto dell'immigrazione immediatamente successivo alla prima guerra mondiale e da Melbourne siamo passati poi a Brisbane nel War Museum e avremo adesso nell'aprile del 2021 una prossima mostra a Bundesberg nel Queensland e lì porteremo oltre ai nomi dei cavalieri di Vittorio Veneto anche le immagini di un fondo fotografico che noi possediamo nel nostro museo che è il fondo Marzocchi quindi legami sia con l'Australia ma anche con gli Stati Uniti d'America perché ricordo sempre e qui Guglielmo sicuramente sorride quello che per me è stato un obiettivo importantissimo raggiunto e cioè il fatto di riuscire a realizzare la prima mostra italiana all'interno del pentagono di Washington riuscire ad entrare in quella cittadella blindata fortificata militare con immagini della guerra sì le immagini fotografiche appunto del fondo Marzocchi ma di una guerra che guarda la pace perché quelle erano le immagini appunto del 332esimo reggimento che aiutava l'esercito italiano e aiutava noi italiani a preservare il nostro patrimonio artistico sappiamo come la pace passi anche attraverso l'arte attraverso la cultura e quel momento fu per me un momento indimenticabile ecco perché convintamente la collaborazione aperta più disponibile con la rete delle università per la pace da parte del Musa della battaglia di Vittorio Veneto da parte di Vittorio Veneto perché condividiamo noi come città e non potrebbe essere altrimenti visto che ci chiamiamo così condividiamo pienamente gli obiettivi che ho letto che fanno parte di questa rete di università grazie a tutti accendo il microfono grazie infinite anche all'assessore Antonella Uliana che avete visto ci ha subito proiettato sul versante internazionale attraverso questo concetto di musei per la pace che è una delle attività previste dalla rete nazionale delle università per la pace proprio la collaborazione con i musei per la pace e adesso tocca a me aprire il collegamento con la Costituzione italiana e la pace e questo è un tema di grande interesse di grande interesse perché diciamo che l'aspetto fondamentale è quello di mettere sotto le attività dell'università di Udine ma anche della stessa rete università per la pace sotto la Costituzione italiana pensiamo che sia una giusta collocazione anche di carattere valoriale ecco io sarò molto breve utilizzo queste slide sarò molto breve per cercare anche di recuperare un po' di tempi l'articolo 11 è il riferimento chiave nella nostra Costituzione c'è il ripudio la nostra Costituzione è una Costituzione che ha avuto un riferimento anche linguistico un controllo anche linguistico da parte dei linguisti prima di essere approvata e qui c'è un termine molto forte ecco un termine molto chiaro usato dalla Costituzione che utilizza diciamo il ripudio per la guerra per collegarsi a un livello internazionale quindi il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controverse internazionali già ci porta all'ambito internazionale nel quale però introduce anche sia il termine di sovranità di limitazione di sovranità ma lo fa anche in collegamento alle condizioni di parità con gli altri stati pensiamo solo che questo articolo è l'articolo tra l'altro ovviamente che assicura il nostro collegamento alle Nazioni Unite ed è stato pensato proprio per collegarci alle Nazioni Unite noi eravamo uscivamo dalla guerra dalla seconda guerra mondiale con un grande isolamento anche per le posizioni che avevamo avuto con il fascismo e avevamo la necessità di rientrare nella comunità internazionale e questo articolo è quello che ci ha consentito di rientrare nella comunità internazionale però è anche l'articolo che ci collega tra l'altro questo articolo ci consente di collegarci alla Unione Europea alla comunità ai trattati europei perché con questo articolo grazie a queste limitazioni di sovranità abbiamo avuto il viatico addirittura da parte della Corte Costituzionale che ha ritenuto la nostra partecipazione all'Unione Europea non bisognosa di alcuna modifica costituzionale attraverso proprio questo articolo questo aspetto della parità è fondamentale sia per quanto riguarda la tematica della connessione alle Nazioni Unite che avviene attraverso la pace e ripudio della guerra e tra l'altro qui proprio in condizioni di parità con gli altri stati pone il problema per quanto riguarda le Nazioni Unite del problematico aggiornamento del Consiglio di Sicurezza che vede ancora il veto delle cinque superpotenze e che crea delle situazioni di differenza e con il Consiglio di Sicurezza tra delle potenze considerate vincitrici della Seconda Guerra Mondiale e gli altri stati nelle Nazioni Unite per certi versi San Marino non equivale agli Stati Uniti e quindi questo è un tema sì di realismo ma è un tema anche che vedete la nostra Costituzione aveva ben evidenziato queste condizioni di parità con gli altri stati tra l'altro questo tema lo richiamiamo proprio oggi con riferimento al al tema dell'Unione Europea dello Stato di diritto lo facciamo perché perché dobbiamo ricordare che quello che sta succedendo ecco anche anche a livello europeo che noi potremmo dire con l'Europa siamo tranquilli per la pace per la convivenza pacifica tra le nazioni e così via beh guardate che la precedente legislatura delle istituzioni europee ha avuto la gestione della crisi della crisi economica con la gestione della crisi soprattutto della Grecia che ha portato la Grecia in una condizione post bellica per certi versi dopo l'intervento dell'Europa e delle organizzazioni diciamo internazionali della Troica nel senso che due terzi della popolazione a causa di questo intervento sono fuoriuscite dal dal sistema sanitario nazionale e ci sono state associazioni come MediSan San Frontier e altre altre organizzazioni che hanno scusate si è si è bloccato l'audio non so perché si è bloccato l'audio ma noi ti sentiamo io continuo ad andare avanti si sentiamo benissimo vado avanti ci sono quindi organizzazioni grazie infinite del riscontro ci sono state associazioni come MediSan San Frontier e come Emergency che sono andate in Grecia a curare i i greci come dopo una guerra tra l'altro gli stessi leader europei alla fine del mandato penso a Juncker hanno chiesto scusa per come si sono comportati in quell'occasione forse hanno ammesso di avere sbagliato ecco proprio per questo profilo un po' richiamo quello che sta succedendo oggi con richiamo allo Stato di diritto nei confronti di Ungheria e Polonia che si hanno dei problemi sicuramente però ecco attenzione lo Stato di diritto non può essere esercitato in modo divisivo come una clava come sono stati usati i medi diciamo gli istituti dei vincoli finanziari europei ecco anche qui molto probabilmente ci sono dei comportamenti anche delle istituzioni europee migliori più efficaci che sono quelli del federalismo quelli della cooperazione rafforzata casomai del coinvolgimento degli stati che sentono maggiormente presente questo tema che sentono maggiormente questo tema dello Stato di diritto e come dire coinvolgere creare un nucleo duro e coinvolgere gli altri in maniera così costruttiva ecco più che esclusiva questo questi questi queste indicazioni ci provengono da grandi istituzioni penso solo prima ho visto che si è affacciato anche padre Luciano Larivera del centro veritas che sarà uno dei relatori successivi e quindi anche il ruolo della santa sede nell'ambito delle Nazioni Unite penso che è stato proprio visto come la santa sede il riferimento per il significato della pace anche all'interno delle Nazioni Unite quindi ecco io avevo altre slide ma direi che possiamo anche fermarci qui e continuare adesso con il la relazione della professoressa Antonella Riem che chiedo alla quale chiedo di accendere la telecamera e di di intervenire di intervenire ecco mi vedete per la mettere in evidenza vediamo mi vedete mi sentite io mi vedo nel quadratino si si a parlare che io poi cerco di mettervi in evidenza ecco allora sono molto felice e onorata di partecipare a questo seminario multidisciplinare e molto aperto e dialogico sulla pace e i diritti umani ringrazio il professor Cevolin e anche appunto Istoria la rete università per la pace per questa opportunità mi pare davvero un evento questo di oggi ma anche un progetto assolutamente opportuno che va sostenuto e molto effettivamente sin dall'88 quando ho fondato il Partnership Studies Group gruppo di ricerca internazionale sugli studi di partnership un gruppo ispirato al lavoro dell'ebrea americana Ryan Eisler che nei suoi testi fondamentali parla molto di equilibrio di genere della pace di un'economia di cura di una sostanza etica del vivere e del lavorare per il bene comune quindi nella mia ricerca scientifica poi anche come preside della facoltà di lingua e letteratura straniere ed ora come direttrice del dipartimento d'UIL mi sono sempre occupata della pace nelle letterature nell'arte in particolare delle donne di pace abbiamo organizzato molteplici interventi convegni reading poetici performance l'assessore Uliana parlava dell'importanza dell'arte assolutamente performance artistiche si sono sosseguite negli anni all'università di Udine attraverso incontri aperti e solidali con le diversità regionali di cui parlava anche il rettore nazionali e internazionali per ricordare che la conoscenza delle lingue delle letterature e delle culture è necessaria come apertura al dialogo dialogico come lo chiamava Ragnar di pace e di partnership e come menzionava prima il collega Barbarisi la conflittualità che è nata nell'essere umano naturalmente spinta e portata avanti attraverso una eccessiva competitività invece che attraverso una collaborazione fra queste iniziative penso fra le altre ad altri segni e altre voci di pace attuata nel 2002 dove abbiamo messo insieme artisti friulani come Tony Zanussi e di altre parti del mondo come Lance Hanson artista poeta ceiena pirana taylor poeta maori anche attraverso laboratori esperienziali come terra magica di Savino Russo artista salentino dove studenti e studentesse hanno conosciuto e reinterpretato creativamente attraverso la manipolazione della terra l'antica civiltà dei dauni popolazione di origine illirica queste attività hanno la funzione di dare spazio a linguaggi espressivi diversi che aprono la mente e il cuore e si fanno portavoce delle tradizioni culturali dei popoli e dei popoli indigeni anche portando un messaggio di pace e solidarietà alle minoranze linguistiche culturali etniche non solo locali ma anche nazionali e internazionali ricordo con particolare emozione il convegno internazionale del 2005 Anamkara che in gaelico significa anima amica poesia saggezza e donne di pace che ha visto la collaborazione del centro delle donne di pace di Torino con il gruppo di studi sullo sciamanesimo e con il working group dei popoli indigeni che riunisce da molti anni che si riunisce alle Nazioni Unite e di cui Lance Hanson poeta Cheyenne è un importante esponente come dice Lance Hanson la componente poetica e creativa estetica e metaforica è parte integrante della visione del mondo delle popolazioni indigene ed è aggiungo io visione centrale focale nelle letterature sono tutti aspetti da ricordare nell'era della globalizzazione per non trovarci disperse confusi travolti da un'onda di progresso lineare indiscriminato che rischia di distruggerci si è trattato in questo evento anche di un incontro di dialogo interreligioso per la pace dove alcune rappresentanti carismatiche di diverse culture hanno condiviso le loro riflessioni e la loro conoscenza rispetto ai messaggi che tutte le religioni ci insegnano nella speranza di andare oltre le barriere culturali e i pregiudizi scientisti e dogmatici avevano partecipato appunto Valentina Dmitrievna della fondazione russa delle madri contro la guerra Susanna Dudieva del comitato madri di Beslan il suo intervento è stato particolarmente intenso e anche doloroso dato che l'attentato di Beslan era accaduto pochi mesi prima Liz Goldstein dell'associazione madri americane contro la militarizzazione giovanile Abiba Santa Sufi dell'Uzbekistan che ha condiviso il mondo spirituale dell'Islam e la situazione post-cittatura stalinista poi c'era Granmado Sara leader cerimoniale del movimento dei popoli tradizionali per la pace del mondo una Mohawk dell'Ontario che ci ha parlato della madre primordiale del mondo nativo di come vada tutelata con un approccio ecologico di armonia e pace anche la natura contro lo sfruttamento e l'impoverimento delle risorse della terra anche Vandana Shiva scienziata nota in tutto il mondo presente in varie occasioni culturali a Pordenone Legge e per la prima volta in Friuli nel 2005 alla manifestazione Calendi Donna organizzata dal comune in collaborazione con l'Università di Udine ha sottolineato e sottolinea sempre l'importanza di fare la pace con madre terra attraverso l'ecologia sociale e culturale l'ecofemminismo e l'attenzione alla biodiversità molti altri incontri di questo genere hanno portato all'Università di Udine negli anni delle voci di donne e attiviste impegnate in modo forte per propugnare la pace in modo pacifico e pragmatico come le ragazze di Cold Pink giovani americane che celebrano e mettono in rete competenze e progetti per la pace nel mondo l'approccio di tutte queste donne che hanno via via partecipato è sempre stato costruttivo e propositivo pur nell'immenso dolore delle madri di Beslan ad esempio o di altre madri figlie sorelle e spose che hanno spesso visto la distruzione e la morte e non solo delle giovani generazioni non abbiamo mai visto risentimento o desiderio di ritorsione o di vendetta vi ho condiviso prima nella chat un link di un video bellissimo per me molto intenso di donne ebree musulmane e cristiane in marcia per la pace dove le vediamo cantare con cantare la pace con un'intensità e una bellezza davvero struggenti ma con anche grande forza grande potenza il contributo delle donne quindi è essenziale anche nella ricerca scientifica molti per esempio sono i volumi usciti nella collana al di forum uditrice universitaria udinese collana che dirigo e che ha pubblicato in italiano tutti i libri di Rian Eisler che vi consiglio caldamente insieme a molti altri testi di ricerca in diverse lingue anche su questi temi vorrei concludere queste mie brevissime riflessioni con le parole apparentemente semplici di un monaco buddista vietnamita Thich Nhat Han che sono un invito alla contemplazione gioiosa delle piccole cose la pace non è qualcosa di esterno da conquistare ma qualcosa da manifestare ciascuna di noi ciascuno di noi in ogni istante della nostra vita ed ecco cosa dice Thich Nhat Han la pace è ogni passo il fulgido sole rosso è il mio cuore ogni fiore sorride con me quanto verde e rigoglio tutti intorno come fresco il soffio del vento la pace è ogni passo e fa gioioso il silenzio senza fine grazie il dipartimento di lingue e letterature dell'università di udine adesso passiamo al professor foresti ecco che vedo anche aver già condiviso lo schermo e al quale do la parola per poter iniziare il suo intervento grazie grazie Guglielmo per questo invito ringrazio il nostro magnifico rettore ringrazio tutti i gentili ospiti presenti e tutti quelli che stanno seguendo il contributo che posso dare come direttore di un dipartimento di informatica e matematica quindi sicuramente tecnologico è quello che cerca di vedere come le tecnologie che definiamo intelligenti e che sono state molto ben introdotte dall'onorevole Basso vengano utilizzate sicuramente per aiutarci per aiutarci in quei momenti di bisogno e sicuramente noi nella terra del Friuli abbiamo sempre in mente quelle che sono le calamità dei disastri naturali il terremoto e su questo noi ci impegniamo sicuramente a fondo per trovare delle soluzioni ecco quando si parla ovviamente di tecnologie intelligenti ce ne sono moltissime e i riferimenti ormai sono anche di uso comune perché quasi tutte le sere ne sentiamo parlare ai telegiornali e in varie trasmissioni quindi cercherò di mettere un appunto su degli esempi visivi che sono il modo migliore per poterli descrivere partendo dalla realtà aumentata fino ai sistemi intelligenti appunto per guida autonoma impiegati però per aiutare i soccorsi e gli interventi durante eventuali disastri e calamità naturali quando parliamo di sistemi intelligenti sicuramente in questi ultimi anni ci riferiamo al grande salto che ha fatto la tecnologia grazie al cosiddetto machine learning alla capacità di permettere a sistemi sempre più complessi sempre più dotati di grandi capacità di calcolo di apprendere e poter mettere in atto in maniera autonoma delle soluzioni laddove chiaramente il solo operatore umano non riesce se immaginiamo i droni un pilota ne può guidare uno forse due se è molto bravo ma un gruppo di 10 o 20 droni è impossibile poterli guidare da un solo pilota e se mettiamo più piloti insieme anche loro avrebbero difficoltà a coordinarsi quindi c'è la necessità di effettuare un'elaborazione cosiddetta intelligente di dati dove intelligente si parla appunto di un coordinamento per poter raggiungere un obiettivo ad esempio trovare dei dispersi diciamo a fronte di un alluvione a fronte di un terremoto poter portare loro dei soccorsi molto prima di quello che possono fare diciamo gli operatori umani vediamo in questi giorni nelle nostre montagne molte frazioni sono isolate senza la possibilità magari di ricevere medicinali o bombole dell'ossigeno come abbiamo visto ai telegiornali di questa mattina e sono dovute partire squadre di soccorso per portarli con un tempo ovviamente di intervento decisamente elevato ecco su questi su questi sistemi ne abbiamo moltissimi esempi alcuni già molto molto efficienti dal riconoscimento dei segnali stradali al riconoscimento di oggetti alla lettura labiale da qualche anno si incomincia anche a usarlo per la diagnosi medica ovviamente in casi semplici adesso ci stanno aiutando queste tecnologie a cercare anche delle correlazioni nei dati molto molto complessi che riguardano il covid che hanno cambiato completamente il protocollo dei dati medici rispetto a quello che erano i modelli pre-covid quindi assolutamente molto molto importanti fino ad arrivare a discorsi più futuristici della cosiddetta manutenzione predittiva cioè capire quando un oggetto un macchinario sta per guastarsi quindi intervenire a diciamo in manutenzione prima che il sistema si blocchi immaginate immaginate i grandi impianti industriali e sicuramente la guida autonoma e da un punto di vista matematico vorrei sfatare un qualche così un'osservazione che molti fanno dicono questi sistemi sono molto complessi ma in realtà i mattoni che sono alla base di questi sistemi sono estremamente semplici sono delle funzioni matematiche che sono fatte da operatori binari che fanno moltiplicazioni e somme quindi è la loro combinazione in centinaia di migliaia e milioni di combinazioni che ne fanno una potenza diciamo di calcolo ma in realtà gli elementi sono estremamente semplici se rifanno quello che è il modello biologico del neurone e il suo funzionamento i modelli attuali come vi dicevo arrivano a utilizzare un grandissimo numero di neuroni e di strati per cercare di arrivare appunto al concetto di apprendimento siamo ancora molto lontani da quello che è la capacità di apprendimento del cervello umano perché il numero di neuroni che le macchine in questo momento sono in grado di gestire e ancora almeno 3-4 ordini di grandezza inferiore rispetto a quello di un cervello umano probabilmente ci sono alcuni che dicono che nel 2050 se arriverà il break even cioè il numero dei neuroni artificiali sul nostro pianeta potrebbe raggiungere quello dei neuroni naturali si parlava di guida autonoma e allora io porterei un esempio diciamo di come un sistema di guida autonoma funziona sopra dovreste vedere mi auguro che il video possa essere percepito ciò che diciamo l'autista virtuale vede ma quello che è interessante è la parte sotto del video dove si vedono in tempo reale le classificazioni che gli algoritmi di intelligenza artificiale fanno ogni colore appartiene a un oggetto diverso che il sistema riconosce localizza e classifica in temporale quindi si vedono gli ostacoli le auto si vedono i segnali stradali si vede la strada si vede gli alberi si vedono i bordi i bordi della strada e così via questo per far capire la potenza di questi di questi sistemi una volta che sono stati addestrati in che modo facendo vedere loro decine e decine di video di guida quindi di movimento di un veicolo su una strada loro apprendono e poi mettono in pratica diciamo in maniera in maniera autonoma volevo farvi vedere adesso un altro un altro esempio che riguarda diciamo l'applicazione sempre delle tecnologie nel caso delle calamità naturali e uno dei problemi è quando appunto c'è ad esempio un'inondazione un terremoto che le persone ormai tutti lo fanno usano i social quindi i canali social per inviare informazioni di soccorso ad esempio video o immagini che vengono scattate dalla loro posizione ma molto spesso queste informazioni non sono geolocalizzate quindi i soccorritori non sanno esattamente in che punto queste persone diciamo che richiedono soccorso si trovano allora ci sono dei sistemi di realtà aumentata che permettono di effettuare questa operazione di localizzazione automatica da parte da parte del sistema ci sono dei data set noi ne conosciamo uno perché lo usiamo molto spesso quando usiamo i navigatori che è quello di google street view che contengono ormai diciamo tantissime immagini in tantissime località quasi una copertura completa dei vari territori del territorio nazionale ecco queste chiaramente vengono usate per fare dei confronti quindi dei match diciamo così da un punto di vista delle applicazioni e prendendo le immagini che sono presenti nel data set ad esempio di google con quella che viene postata dall'utente si può andare a verificare e a ricostruire quella che è la sua posizione e verificare diciamo con assoluta precisione il punto da cui è stata scattata inoltre qui aggiungo un'altra cosa molto importante che riguarda sempre i social permette anche di smascherare tutti quelli che purtroppo ci sono che durante le calamità naturali postano immagini fake fasulle che chiaramente possono portare grandi disagi ai soccorritori quando devono intervenire sul campo si parlava anche di sistemi autonomi di droni chiudo facendo vedere un video che ci inquadra diciamo un drone che è dotato di sensori anche acustici viene posizzato in alto nel nostro video che sorvola una zona diciamo dove ci può essere stata appunto una calamità naturale alla ricerca di persone grazie non solo ai sensori video e sono quelli che possiamo vedere nel nostro esempio anche dei sensori acustici quindi poter anche trovare delle persone che magari sono parzialmente sotto le macerie stanno urlando ma il sensore video non è in grado di individuarle e di percepirle ecco questo diciamo direi che più che sufficiente per la mia per la mia presentazione per dare si è interrotto si è interrotto il microfono Gianluca sì sì comunque era verso la fine chiedo scusa a Gianluca Foresti colpa mia non siamo riusciti a vedere le sue le sue immagini e quindi andiamo avanti lo stesso e colpa forse che avevo anche acceso il telefonino ci sono diversi problemi e anche imbranatezze del sottoscritto ecco grazie ancora a Gianluca Foresti posso postare le slide mandarevi le slide quindi chi ha piacere le può vedere mi spiace insomma colpa mia colpa mia e metto nella chat devo partecipare più alle attività del tuo dipartimento e ora abbiamo con noi la direttrice del dipartimento di scienze giuridiche la professoressa Elena Dorlando alla quale chiederei di accendere la telecamera grazie a parlare grazie infine il tema è un'attività che stiamo facendo come dipartimento di scienze giuridiche ma tengo molto al al tuo intervento perché so che collegato alle minoranze che ha visto sono state richiamate da tanti e che saranno ancora richiamate all'identità europea temi che sono venuti di scena in questo nostro seminario interdisciplinare grazie Elena dovresti parlare grazie a te Guglielmo per avermi coinvolto in questa bellissima iniziativa e grazie anche al nostro Ateneo al magnifico Rettore ai colleghi che mi hanno preceduto in particolare Antonella Riem e Gianluca Foresti perché mi pare che abbiano già messo in evidenza in maniera molto chiara ed efficace nonostante la mancata condivisione delle slide di Gianluca quello che il nostro Ateneo da molteplici punti di vista sta già facendo ha fatto fa e anche farà proprio per dare il suo contributo ad una cultura della pace perché agire nella prospettiva della pace può significare moltissime cose e io penso che in particolare alle istituzioni di alta cultura alle università sia affidato da questo punto di vista un compito importantissimo e se vogliamo per certi aspetti anche infongibile perché per come io concepisco l'università è la sede naturale del confronto del dialogo della costruzione insieme di visioni e di percorsi comuni è il luogo in cui alla fine parlo non solo degli studenti ma anche di noi docenti attraverso la nostra attività di ricerca riusciamo a conoscere a mettere meglio a fuoco noi stessi e quindi ad interagire in modo più sereno con gli altri e questo come ricordava anche Antonella penso sia un po' la precondizione essenziale per poter essere efficaci latori di una cultura di pace e allora in questa prospettiva qual è l'iniziativa di cui io voglio parlarvi un'iniziativa di cui tra l'altro mi fa molto piacere parlare perché è condivisa proprio con Antonella Riem il suo dipartimento è un'iniziativa neonata che spero possa trovare anche ulteriori adesioni all'interno del nostro Ateneo ed è un progetto di riflessione interdisciplinare a 360 gradi sul tema dell'identità europea e delle sfide globali che penso che sia strettamente connesso al tema di cui discutiamo oggi tu Guglielmo giustamente prima ricordavi la centralità dell'articolo 11 della nostra Costituzione che è un po' una dichiarazione solenne di intenti dei nostri costituenti rispetto al tema della pace all'epoca come tu ricordavi pensata per la partecipazione dell'Italia alla società delle nazioni che era un po' l'antesignano dell'attuale Unione Europea lo dico per gli studenti e che oggi invece è il fondamento costituzionale che consente la partecipazione del nostro Paese al processo di integrazione europea quindi un articolo importantissimo che giustamente tu hai ricordato l'Unione Europea è un po' oggi la nostra dimensione istituzionale per affrontare le sfide globali se partiamo allora da questo presupposto allora capiamo immediatamente quanto importante sia riflettere oggi sulla capacità che l'Unione i suoi stati membri le sue varie articolazioni socio-economiche territoriali hanno di competere in un contesto globale in cui la complessità è aumentata e c'è la necessità di governarla anche ai fini di mantenimento della pace con strumenti inevitabilmente nuovi rispetto al passato e quindi di qui la nostra idea di pensare allo sviluppo dell'Unione Europea pensando innanzitutto a ciò che l'Europa è e a ciò che può diventare conducendo questa riflessione sia da un punto di vista interno all'Unione le sue componenti i suoi cittadini le comunità culturali gli stati membri ma anche in rapporto all'esterno dell'Unione cioè a ciò che non è Europa ma con cui però l'Europa deve necessariamente confrontarsi e relazionarsi e allora pensare a secondo queste coordinate significa pensare all'identità europea tra l'altro riflessione che più volte la stessa Commissione europea ci ha sollecitato in vari contesti e in varie occasioni e pensare all'unione all'identità europea significa affrontare questo tema evidentemente in una dimensione multipla l'identità europea è per definizione multidimensionale perché l'identità di ciascuno di noi deriva dai diversi contesti in cui ciascuno di noi è inserito quindi come giustamente tu Guglielmo ricordavi prima il discorso relativo all'Unione europea non può essere disgiunto dalla sensibilità che ciascuno di noi ha per i contesti comunitari di riferimento da cui proviene soprattutto se sono contesti come quello che noi viviamo in Friuli Venezia Giulia che sono caratterizzati da un'identità plurale cioè dalla compresenza risalente nel tempo di comunità che provengono da percorsi diversi quindi hanno storie culture e anche lingue diverse ma che hanno sempre convissuto pacificamente all'interno di questo territorio identità europea quindi significa condividere pratiche abitudini norme quello che noi giuristi sinteticamente definiamo le tradizioni costituzionali comuni ma significa anche al tempo stesso continuare a partecipare a quelle dimensioni locali dell'identità che sono imprescindibili ovviamente nell'ambito di questo tema cruciale è il riferimento al concetto di cittadinanza che un po' sintetizza quella dimensione globale locale a cui facevo riferimento prima da questo punto di vista mi limito solo a ricordare per ragione di tempo che ho investito lo spazio europeo negli ultimi anni dalla crisi istituzionali di vario tipo alla crisi economico finanziaria alla crisi migratoria e da ultimo quella sanitaria necessitano evidentemente degli approfondimenti su questo tema e basti solo pensare che secondo alcuni queste crisi sono state determinate proprio dalla mancanza di una vera identità europea cioè dalla capacità quindi dell'Unione europea di agire con una voce sola in quanto persona tra virgolette giuridica sole secondo altri invece il problema sempre ragionando di queste crisi risiederebbe nell'attenzione insufficiente che le istituzioni europee hanno avuto nei confronti di un'identità comune che in realtà già c'è un po' come la vicenda se ti ricordi Guglielmo della cosiddetta costituzione materiale dell'Unione europea che formalmente non c'è ma di fatto c'è e che attenderebbe quindi solo di essere riconosciuta promossa e consolidata è chiaro che e qui vengo al globale che il contesto geopolitico attuale in cui l'Unione europea si trova è radicalmente diverso rispetto a quello in cui l'integrazione europea ha iniziato a svilupparsi ovvero il contesto di una realtà bipolare sostanzialmente che se comportava rischi però offriva anche punti di riferimento diciamo certi ecco adesso invece il mondo sappiamo è molto più interconnesso economiche ambientali sono molto aumentate ma nel contempo paradossalmente quella che sembra diminuire è la capacità di governare tutte queste variabili il multilateralismo tanto declamato come arma vincente delle relazioni internazionali è sempre più diciamo disordinato e pare riprendere forza uno schema quasi vestfaliano ormai direi a livello planetario quindi riflettere sull'identità europea dal nostro punto di vista è un momento imprescindibile per affrontare con cognizione di causa le grandi sfide che l'Europa si trova davanti rilanciare per esempio l'attuale modello di integrazione fondato su un mix tra funzionalismo intergovernativismo che abbracci l'intero continente oppure viceversa come sostengono alcuni puntare su cooperazioni settoriali più ristrette oppure come sostengono i più coraggiosi avviare una prospettiva federale che realmente ricomponga quella frattura che mi pare ormai evidente nel discorso politico europeo tra solidarietà da una parte e responsabilità dall'altra che solo una struttura dell'Unione Europea secondo il mio modesto parere di natura costituzionale potrebbe ricomporre è chiaro che per affrontare una riflessione in maniera così ampia è necessario come dicevo prima un approccio multidisciplinare per cui io colgo ancora l'occasione per ringraziare Antonella dell'adesione a questo progetto che spero ripeto possa divenire un tratto distintivo del nostro Ateneo sotto il profilo della didattica della ricerca e della terza missione anche perché con questo chiudo mi permetto di sapere che un focus su temi di questo tipo non può non essere proprio di una università come la nostra che si trova in una regione come la nostra una regione che da sempre è stata considerata una regione ponte verso mondi che una volta non erano certo così alla nostra portata e non erano così accessibili come lo sono oggi quindi in realtà questa è una missione che noi abbiamo direi proprio da un punto di vista ontologico e che spero possa essere ulteriormente valorizzata ecco quindi non posso che ringraziarti ancora Guglielmo per questa bella opportunità e da parte del nostro dipartimento come sai ci sarà sempre sostegno e attenzione a queste iniziative parlando di identità plurali quindi anche di pluralismo linguistico come tu mi hai chiesto con enorme piacere introduco la relatrice successiva che è la professoressa Vicenta Tasa dell'università di Valencia un'università con la quale tra l'altro il nostro dipartimento ha recentemente instaurato un rapporto Erasmus che spero costituisca l'occasione di scambi sempre più intensi e proficui nonostante ovviamente adesso siamo costretti a rimanere in stand by e la professoressa Tasa interverrà su un tema molto caro anche a noi qui in Friuli Venezia Giulia che è quello dei diritti linguistici all'interno dell'Unione Europea le cielo quindi la parola grazie professoressa Elena d'Orlando grazie infinite al professore Guglielmo Cevolin per il suo invito a partecipare al primo seminario interdisciplinare sulla pace i diritti umani e dei popoli appartengo alla minoranza di 40 milioni di europei che hanno come propria una lingua non ufficiale della Unione Europea la mia lingua di famiglia è quella in cui svolgo parte del mio lavoro e della mia vita quotidiana è il catalano una lingua che nella comunità autonoma valenziana di cui faccio parte chiamiamo solitamente valenziana il catalan è la prima lingua di entorno a 6 o 7 milioni di persone in España è una lingua parlata con fluidezza per 10 milioni di persone e è minimamente conosciuta per più 13 milioni di persone un 25% della poblazione con cittadinità espagnola e un 3% della poblazione europea il catalano valenziano è la lingua oficial regionale in Cataluña in le isole baleare in la comunità valenciana e è minoria lingüistica reconocida però sin oficialità lingüistica in una parte del territorio di Europa però non è una lingua oficial del Reino di España e per lo tanto tampocco lo è della Unione europea la realtà lingüistica della Unione europea è definita per la diversità anche in questi momenti la Unione europea non ha una politica di multilinguismo suficientemente igualitaria e respetuosa con le lingue minorizzate in la Unione europea secondo i dati della Comissione europea si parlano di 85 lingüi le 5 lingüi più parlate sumando la trasmission familiar e escolar primaria tras il abandono del Reino Unito sono il alemane italiano francese castellano polacco per questo ordine i parlanti di queste lingüi sumano al 70% di 446 mille di persone che constituent la población della se incluye a ciudadanos che hanno come lingua propria familiar e prima una lingua europea che non è la oficial del Estado con todo la realtà lingüistica europea cambia quando a cifras anteriores sumiamo las persone che hanno competenza lingüistica elevata oral e escrita in una lingua europea che non è propria in su Estado in ese caso la importanza relativa delle lenguas modifica profondamente in questo senso il catalan è la lingua non oficial più parlata dentro della Unione Europea approssimamente la hablan de manera familiar 6,5 millone de persone e può essere parlata por 10 millone europei e europei anche è conocida per 13 millone ora bien il hecho che il catalan solo tenga una oficialità devaluata o de segundo orden in parte del territorio espagnolo e che non sia una lingua oficial del Estado nos otorga a los parlantes de questa lingua meno diretti lingüistico che a altri europei e nos situa come veremos nel tercer nivel de reconocimento la diversità lingüistica in la Unione Europea e con un numero de diretti lingüistico limitato è una situazione injusta e difficilmente justificabile en termini democratticos e pone manifiesto que sempre sono coherentes con los principios que esos mismos estados dicen defender quando se defienden como democracias liberales este hecho constitutivo de la realidad interna e constitucional de buena parte de los estados que forman la Unión ayuda a explicar la jerarquía jurídico lingüística que domina la Unione Europea es importante entender que a pesar de que la Unione Europea proclama formalmente que su politica lingüística parte del reconocimento y la promoción de la diversidad lingüística europea y el multilingüismo su reconocimiento de la diversidad determinado por las lenguas que los distintos estados consideran que deben ser oficiales de la Unione y del mismo modo la promoción del conocimiento de otras lenguas europeas se orienta esencialmente a mejorar la capacitación lingüística en inglés en alemán y en francés entre cuatro categorías de reconocimiento cuando se refiere a las 85 lenguas vivas de la Unión la primera es la de las lenguas de trabajo de las instituciones europeas como es bien sabido son el inglés el francés y el alemán en estas lenguas están todos los documentos de la Unión y son además las lenguas en que trabaja la administración de la Unión la segunda que sean oficiales en la Unión Europea y que suelen corresponderse con las lenguas oficiales de las instituciones centrales de los estados ser lengua oficial comporta tener derecho a que los reglamentos y todos los documentos legislativos en una versión oficial en estas lenguas y que el diario oficial de la Unión Europea se publique en todas las lenguas oficiales asimismo también supone que y que esas personas tengan derecho también a recibir respuesta en esa misma lengua La tercera categoría de reconocimiento son las lenguas que tienen unos usos administrativos concretos y limitados en algunas instituciones de la Unión sin que estos usos tengan un valor plenamente oficial en todos los casos se corresponde con los usos lingüísticos introducidos por el Estado español respecto del valenciano catalán gallego euskera lenguas con oficialidad limitada en algunas comunidades autónomas del Reino de España El procedimiento por el que se activó este tercer tipo de reconocimiento se inicia a finales de 2004 cuando el gobierno español presenta una solicitud para el reconocimiento en la Unión Europea de estas lenguas oficiales que fue aprobada por el Consejo de Ministros de la Unión de junio de 2005 de la Unión Europea y son las otras cerca de 60 lenguas europeas para las que la Unión no tiene ningún tipo de reconocimiento ni política específica en este sentido a pesar de que la Unión Europea no ha desarrollado una política de apoyo y protección a las lenguas minorizadas que fuera más allá de la que practican los estados miembros hay que destacar que en 2007 conocimiento entre la ciudadanía europea de las otras lenguas europeas diferentes a la propia además de la preservación y el conocimiento de todo el patrimonio lingüístico de la Unión Europea este hecho levantó expectativas positivas en los defensores de las lenguas minoritarias pero como hemos dicho el primer objetivo sirvió solamente para reforzar la posición de lenguas de trabajo de la Unión del ingles del alemán y del francés unos 50 millones de personas que tienen ciudadanía europea hablan habitualmente una lengua no oficial en la Unión Europea sólo esta cifra sería motivo para modificar la política de multilingüismo de la Unión y hacer que todas las instituciones de la Unión Europea asumieran un compromiso fuerte con la diversidad lingüística y que consideraran realmente a todas las lenguas europeas como un bien común que tiene que ser promovido y defendido de manera activa permitiendo por parte de la Unión cuando menos la oficialidad de aquellas lenguas minoritarias con más hablantes Borré finire en la loro lingua e diré a modo de resumen que fino a eso la gestione de la diversidad lingüística de la Unión Europea está atafata sul principio non escrito de la jerarquía lingüística e questo principio dice que algunas lengüas para ser más habladas y más poder son políticas y más importantes y útiles y por esto que la Unión ha dicho en práctica a la mayor parte de las estatales recordando Dante abandonate cualquier esperanza de diventarse lenguas de labor de la Unión y también ha dicho a las lenguas europeas que no son oficiales en sus estados abandonados cada esperanza de diventarse lenguas oficiales de Unión Machiavelli en su libro Discorsos sobre la primera década de Tito Livio cuando habla como la República romana se 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 lo que hizo grande fue su capacidad de integrar la diversidad y superar los conflitos compatibles y acordes porque no se puede hablar de una democracia de igualidad en una realidad donde los grandes no consideran igual que el tipo Tanti grazie a tutti moltes gracias Vicenta hai fatto un collegamento con la politica multilinguistica dell'Unione Europea e le necessità diciamo della identità europea per le sfide globali anche questa è una sfida europea ma anche globale e lo vedremo anche con i riconoscimenti dei diritti dei popoli indigeni ma l'ambito della nostra identità trova delle difficoltà anche all'interno dell'Unione Europea come vediamo oppure delle necessità di avanzamento ulteriori e quindi moltes gracias in Valenza bene adesso io chiederei alla professoressa alla professoressa